Dopo il picco più alto da inizio maggio, toccato con i 33 nuovi casi di ieri, arriva una piccola frenata nella crescita dei numeri del contagio da coronavirus in Puglia. Sono 16 i nuovi casi registrati dal bollettino epidemiologico del 13 agosto. Il dato odierno porta a 4.809 il totale dei pazienti riscontrati nella nostra regione, di cui 3.979 guariti, 276 attualmente positivi e 554 deceduti. Due sono i guariti delle ultime 24 ore, invariato il numero dei decessi. Sale da 216 a 228 il totale dei quarantenati, da 45 a 48 quello dei ricoverati. Cinque dei nuovi casi odierni sono provenienti dalla provincia di Bari. Secondo quanto dichiarato dal direttore generale della ASL del capoluogo Antonio Sanguedolce, si tratta di tre persone rientrate dalla Grecia, un contatto stretto di un caso già accertato e sorvegliato di alta mura, un caso già in isolamento fiduciario e un uomo di 83 anni sintomatico ricoverato nel reparto di rianimazione del policlinico. Il totale dei pazienti riscontrati nel Barese sale a 1.568. Tre sono invece i casi emersi nel Foggiano. Di questi due sono collegati a focolai preesistenti, il terzo è un cittadino straniero presente sul territorio provinciale. Il dato totale della zona d'Auna sale a 1.250 con Cerignola che con oltre 50 attualmente positivi è, insieme a Bari, la città più colpita dal virus in Puglia nel corso delle ultime settimane. Un nuovo caso emerso sia dalla provincia di Lecce che da quella di Brindisi. Il positivo della zona messapica è un pugliese che lavora in Emilia Romagna ed è stato di recente in vacanza in Croazia. Tornato in Puglia dove si trovano i suoi parenti si è subito autosegnalato e ha riferito che un contatto stretto al rientro in Italia dalla Croazia era il risultato positivo. È stato sottoposto a tampone e si trova in isolamento fiduciario. I dati totali nel Salento e in provincia di Brindisi sono rispettivamente di 598 e 681 pazienti. Un nuovo caso è stato registrato nella BAT, trattasi di un positivo inizialmente attribuito alla provincia di Bari. Totale dei pazienti della sesta provincia pugliese è ora di 390. Per i restanti 5 nuovi casi odierni si è in attesa di collocazione. Unica provincia senza nuovi contagi il 13 agosto è quella di Taranto il cui totale resta di 285. I 1746 test odierni portano 262.847 il totale dei tamponi effettuati in Puglia.